ciao in questo breve filmato ti presentiamo il terzo di sette diritti dei bambini riguardo ai quali potrai esprimere la tua opinione nell'ambito del consiglio dei bambini 2019 si tratta del diritto numero 24 ogni bambino ha diritto alla salute e affinché ciò sia possibile anche ad avere accesso ai servizi medici corrispondenti come giudichi la possibilità di accedere a servizi e cure mediche in alto adige vi sono a sufficienza persone buone che ti aiutano a rimanere sano o in caso tu sia malato a guarire cosa ne pensi della vaccinazione deve essere un obbligo hai idea di come si possa restare sani anche in età avanzata e di cosa si potrebbe fare per riuscirvi se nel corso del consiglio dei bambini vorrai discutere su queste e simili domande allora indica il diritto dei bambini numero 24 nell'atto di confermare la tua iscrizione ci farebbe piacere se tu potessi essere uno dai nostri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti